Ti dimentichi, perché se ovviamente ti devi rapportare e confrontare con più persone... Sì, va bene, la fotografia mi ha andato in fatto. Quindi vedi, ti dimentichi, ma fai una figuraccia. Ma figuraccia di cosa? Io non ho dato l'esclusiva a nessuno, io mi sto relazionando, sto conoscendo tre donne. Ma non si tratta di esclusiva, di serietà, di un uomo di cinque anni e di un papà. Perché i tempi sono riduttivi ed è giusto che uno si vuole... Quando sono andata via e mi dicevi... Scusami se te lo chiedo. Io? Sì. Sessantuno. Con me ci usciresti tu? Chiedo, con me ci usciresti? Sì. E ne ho sessanta, eh? Ah, ne hai sessanta. Ah, sono i soldi che cambiano, che cavolo. No, assolutamente no, no. Assolutamente no, io lavoro... Abbiamo la stessa età. Faccio il lavoro, no, assolutamente no. Gianluca, abbiamo la stessa età io, lei. Uguale. Ci stai fisicamente chi se lo porta un po' meglio e un po' peggio. In generale ti parlo, eh? Mi dispiace, faccio più ginnastica, Sara. Eh, dobbiamo andare più... In generale. Sì.